Radio Radicale, siamo con Maglio Di Stefano al termine della conferenza stampa di presentazione del programma esteri del Movimento 5 Stelle. Allora, qual è oggi la collocazione del Movimento 5 Stelle, che è un partito che si candida anche al governo del Paese? Abbiamo una posizione molto chiara, che è quella incentrata sul multilateralismo e la cooperazione. Crediamo che in un contesto geopolitico in cui gli attori in campo sono rinati, quindi abbiamo un contesto oggettivamente multipolare. L'isolazionismo che ha avuto l'Italia in questi ultimi anni, schierandosi a priori con il blocco atlantico, abbia causato per noi dei problemi sia economici che proprio di geopolitica. Basta pensare ai flussi migratori, basta pensare alle sanzioni alla Russia e quant'altro. Allora, puntare a un mondo realmente multipolare, ripetendo un dialogo con questi attori, è un passaggio fondamentale ed è lì che ci piazziamo noi. Qual è oggi la vostra posizione nei confronti della Nato? Non molto tempo fa avete presentato un provvedimento che riguardavano le servitù militari. Questo avrebbe costretto la Nato a fare fagotto dall'Italia? Cosa vorrà fare la Nato di una nostra proposta? È un problema loro. Noi crediamo che le condizioni nelle quali la Nato oggi opera non siano più sostenibili, quindi o si riforma, ma lo sanno anche i membri della Nato e i decisori politici della Nato, o si riforma o è destinata a vedere tanti paesi sempre più scettici. Non a caso la proposta di Trump di aumentare la dotazione economica di ogni paese sulla Nato è caduta nel vuoto, perché già c'è un forte scetticismo, figuriamoci aumentare pure la dotazione economica. Qual è la vostra posizione nel conflitto medio-orientale, non al dudo a quello siriano, ma a quello nei rapporti tra Israele e Palestina? Ma l'abbiamo detto più volte che vogliamo il rispetto dei diritti internazionali e dei diritti umani, quindi le risoluzioni ONU parlano chiaro, sono oltre 70 risoluzioni che condannano atteggiamenti sia di Israele che di alcune itali palestinesi. Vogliamo il riconoscimento della Palestina nelle confline 67, sappiamo quanto sia difficile oggi raggiungerlo per via della quantità di territori occupati che ci sono e quindi andrà fatto sicuramente un tavolo di concertazione per capire dove si può realisticamente arrivare e a che condizioni che vadano bene entrambi gli attori in causa. Un'ultima domanda, la Russia di Putin, secondo lei è un punto interrogativo o una porta che si può aprire per il dialogo? E' una porta che è fondamentale aprire perché la stabilità del Medio Oriente e la stabilità quindi del Mediterraneo per l'Italia è fondamentale, l'abbiamo pagata fino ad oggi con crisi economiche e crisi migratorie, quindi avere un buon dialogo con la Russia e con gli Stati Uniti per la stabilità del Mediterraneo è fondamentale per noi. Ancora all'Occidente però? Ma noi siamo un paese ovviamente occidentale, non rineviamo l'appartenenza dell'Unione Europea che è un blocco politico che ha permesso un'interlocuzione alla pari con dei colossi come la Russia e gli Stati Uniti dell'America ed è proprio per questo senso di appartenenza positiva all'Unione Europea che vogliamo salvarla dallo sfacello dove sta andando per le sue stesse colpe. L'Eurozona è uno di questi problemi che la sta condannando, allora uscire dal concetto schiacciante di Europa fondata sull'Eurozona e tornare su Europa fondata sui popoli che ha anche casomai una moneta unica come seconda, come accessorio diciamo, è fondamentale. Ringrazio, grazie a Maglio Di Stefano e al Movimento 5 Stelle.